Che cosa è un perizoma? Un tipo di mutanda I mutand Si dice a me Quale opera letteraria si trova il verso? Edelli avea del culo Eh ma no Ma non vi vergognate che mi fate Non si può leggere la domanda Qui abbiamo un signore E' un nonno probabilmente Dico bene Nonno Reolon Da dove viene? Dal Veneto? Belluno Belluno E' un po' raffreddato No Oltre a po' subito un'operazione Ah subito un'operazione ho capito Beh comunque Alle corde vocali Alle corde vocali Comunque vedrà che adesso la voce tornerà di nuovo No sono vent'anni sono me A vent'anni Cosa fa lei signora? Casalinga Casalinga Bambini ne ha? Due ragazze Ecco e suo marito mangia mais ogni tanto quando viene a casa Non sembra molto convinta Come mai signora? Eh no perché sono vedova Ah è vedova Che figura di merda Attenzione donne Qual è il titolo di questa canzone? La filanda La belinda La bernarda No la berlanda La berlanda Signorina Se me lo tira giù Vince 83 milioni Questo è il cetriolo più grande del mondo E' stato coltivato in Australia Dalla donna che vedete sorridente E che si chiama Miss Chappell Miss Chappell La bernarda